Musica Ben trovati da Silvia De Sandi al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari un saluto agli amici che ci ascoltano sulle frequenze di Radio Bari In primo piano una pagina dedicata alla cultura con una convenzione sottoscritta oggi nel foyer del teatro Petruzzelli si fa ancora più forte il legame di collaborazione tra la Fondazione Lirico Sinfonica e l'Ateneo di Bari ci spiega perché Cristina Ferrigni Un accordo bilaterale che sancisce un nuovo patto di collaborazione già consolidato nel tempo tra le due più importanti istituzioni culturali della città con la firma di una convenzione sottoscritta stamani nel foyer del teatro Petruzzelli la Fondazione Lirico Sinfonica e l'Università di Bari si impegnano in un reciproco e proficuo scambio di progetti sposando l'idea di aprire il teatro a nuove esperienze di aprirsi alle esigenze di una realtà come quella universitaria barese che conta oltre 70.000 studenti con una serie di iniziative come illustra il rettore dell'Ateneo Corrado Petruzzelli È un accordo, come dire, multiforme è un accordo che prevede una collaborazione di fondo sinergica fra la Fondazione e l'Università è testimonia dell'interesse e della volontà da parte della Fondazione di cooperare con l'Università e dell'intento di apertura a questo settore da parte dell'Università che ci caratterizza ad alcuni anni È un accordo che si sostanzia sulla base di iniziative che noi abbiamo assunto Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale è uno dei nostri corsi nei quali abbiamo creduto crediamo, io lo considero, un fiore all'occhiello è quello che si definisce industria culturale e creativa nella quale noi crediamo molto gli altri paesi stanno investendo e questo paese dovrebbe investire Poi è un accordo che ha una ricaduta nei fatti anche in cambio noi abbiamo disponibilità di spazi del medesimo teatro, del foyer per nostre iniziative e noi mettiamo i nostri spazi a disposizione della Fondazione a cominciare dalle prove che sono secondo me una delle cose più belle e più interessanti che si possano seguire Infine voglio ricordare che questo accordo significa anche un risparmio notevole per quello che riguarda il prezzo di acquisto di tutta una serie di biglietti per i nostri dipendenti ma soprattutto per i nostri studenti Basta questo, credo, a far considerare estremamente positiva la firma di oggi L'accordo segna la tappa di un percorso formativo importante spiega il commissario straordinario della Fondazione Carlo Fortes un percorso che prevede anche uno scambio di spazi il teatro nei luoghi dell'Ateneo e l'università in quelli del teatro Sarà uno scambio di idee, sarà uno scambio di servizi sarà uno scambio di spazi anche sarà uno scambio di conoscenze, di know-how attraverso stagio, attraverso lezioni da fare qui in teatro ma anche da fare all'università sarà, credo, uno scambio di interesse sia per il teatro che per l'università La crisi investe il settore del manifatturiero e l'allarme della Confartigianato in quattro anni in Puglia hanno chiuso più di 2300 aziende il servizio di Cristina Ferrini Le imprese artigiane crollano sotto il peso della crisi in quattro anni dal 2009 fino al 2013 in Puglia sono fallite ben 2360 attività manifatturiere soltanto a Bari dove il settore rappresenta il 40% delle imprese artigiane dal 2009 al 2013 c'è stato un calo dell'8,2% e quanto emerge dalla prima indagine congiunturale sull'artigianato manifatturiero del Centro Studi di Confartigianato in Prese Puglia Le aziende chiudono la produzione è quasi ferma la domanda interna scarsa allo stesso tempo le aziende devono fare conti con la difficoltà di accesso al credito sempre più difficile a risentire maggiormente degli effetti della crisi sono le ditte che si occupano di abbigliamento oltre 750 sono sparite dal mercato anche le fabbriche di mobili sono diminuite del 24% passando da 915 a 695 segue l'industria del legno dei prodotti in sughero che conta 401 attività in meno l'industria tessile perde oltre 110 imprese anche le fabbriche di altri prodotti della lavorazione di minerali sono diminuite del 9,7% le chiusure delle imprese artigiane dichiara Confartigianato non sono state compensate dalla nascita di nuove imprese a fine 2012 lo stock di aziende artigiane si è ridotto dell'1,5% rispetto al 2011 l'artigianato manifatturiero spiega il presidente Confartigianato Imprese Puglia Francesco Sgerza rappresenta una realtà estremamente importante nella nostra regione e deve essere salvaguardata con una serie di provvedimenti anche straordinari innanzitutto l'abbattimento di quelle che sono gli oneri fiscali e contributivi sotto questo aspetto perché evidentemente con una riduzione della produttività il modo migliore per riprendere la produzione è quello di incentivare il sistema produttivo e quindi rimetterlo in funzione noi rischiamo e abbiamo subito una crisi soprattutto per quanto riguarda la competizione che arrivano da altri paesi dai paesi dell'est in modo particolare dalla Cina e quindi un controllo maggiore rispetto a queste attenzioni in questa direzione perché l'export venga salvaguardato e protetto rispetto ad altre situazioni La Guardia di Finanza ha scoperto una maxi evasione fiscale milionaria a Valenzano una società che commercia cavalli destinati alla macellazione infatti era letteralmente sconosciuta al fisco per gli anni 2010 e 2011 il volume di affari è stato ricostruito attraverso un'articolata attività di intelligence grazie anche a fornitori e clienti i ricavi non dichiarati ammonterebbero a circa 5 milioni e mezzo di euro i costi indeducibili a 1 milione e mezzo di euro e l'iva non versata sarebbe pari a 900 mila euro denunciate a vario titolo tre persone per occultamento ovvero distruzione di documenti contabili dichiarazione infedele nonché omessa dichiarazione dei redditi ed iva Torniamo a parlare di criminalità la percezione di tanti cittadini è che Bari sia una città sempre meno sicura crescono infatti furti nelle abitazioni a danno di privati lo conferma il sindacato di polizia Silvia Di Pinto La probabilità che in un anno una famiglia barese subisca un furto o una rapina è pari al 20% in sostanza ci tocca aspettarci un danno a beni privati almeno una volta ogni 5 anni e negli ultimi mesi i ladri nel capoluogo pugliese sembrano concentrarsi proprio sui piccoli reati predatori a confermare la percezione dei cittadini e il SAP e il sindacato autonomo di polizia nei primi 90 giorni del 2013 infatti a Bari si sono verificati poco meno di 3000 furti soprattutto ad abitazioni, auto, scippi e borseggi il 5% in più rispetto allo stesso periodo del 2012 praticamente azzerate le grandi rapine i casi si contano sulle dita di una mano c'è invece un'impennata delle rapine in casa o ai danni degli esercizi commerciali 200 nel primo trimestre di quest'anno ed è questo secondo il SAP il dato su cui riflettere i singoli cittadini si percepiscono meno sicuri perché effettivamente sono sempre di più loro a essere colpiti come rispondere alla domanda dunque di sicurezza incrementando l'organico e la convinzione di John Battista segretario del SAP questa mattina ospite di Be and the Gang visto che a Bari servirebbero almeno 200 uomini in più la crisi incide anche sulle risorse a nostra disposizione noi oggi abbiamo una carenza organica enorme a Bari solo in questura per assicurare una copertura dei servizi così come disposti alle piante organiche servirebbero almeno altri 200 uomini e tra l'altro abbiamo un problema grossissimo di aumento dell'età media ormai l'età media dei nostri operatori è di circa 45-46 anni capirà che combattere la microcriminalità quando si hanno alle spalle ormai 25-30 anni di servizio non è molto semplice Domenico De Bartolomeo è il nuovo presidente del Comitato Nazionale del Lance per i problemi del Mezzogiorno e delle Isole la decisione è stata presa all'unanimità da tutti i componenti del Comitato l'organismo che si occupa di tutte le problematiche del comparto delle costruzioni che minacciano la ripresa economica del settore nel Mezzogiorno del Paese già membro della Giunta e del Comitato di Presidenza dell'Ance nazionale De Bartolomeo attualmente presidente di Ance Puglia e Ance Bari Bat vicepresidente di Confindustria Bari Bat e componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Asi Bari Musica e comicità domenica in piazza per Bari Sicura l'appuntamento voluto dalla Fondazione Ciao Vini per la terza giornata della sicurezza stradale Silvia Di Pinto Una lunga maratona di musica e sorrisi per festeggiare insieme la terza giornata della sicurezza stradale del Comune di Bari La Fondazione Ciao Vini quest'anno rilancia e prepara per domenica 12 una serata davvero speciale Sul palco allestito in piazza della Libertà dalle 18 si esibiranno band emergenti Pangea, Delide Marzo, Molla, Aiello e Upapun Gran finale con Alan Sorrenti il cantautore amato dal grande pubblico Per It come figli delle stelle è l'unica donna per me a condurre la serata Mauro Pulpito accompagnato da Gianni Ciardo che si sperimenterà nella veste anche di musicista in piazza 22 stand di associazioni e forze dell'ordine pronte a distribuire gadget a grandi e piccoli L'apertura della serata sarà dedicata a un momento di riflessione sulle norme di guida e di soccorso stradale in cui la Fondazione Ciao Vini continuerà idealmente il lavoro portato avanti nelle scuole che ha visto già coinvolti più di 2000 studenti L'invito ai baresi è del vicepresidente Lorenzo Moretti Cerchiamo di arrivare a più persone possibili con dei messaggi positivi quindi anche i gruppi che abbiamo scelto sono tutti gruppi che danno messaggi positivi E la giornata della sicurezza è stata fortemente voluta dal Comune di Bari partner di Bari Sicura che ora punta ad estendere l'iniziativa a livello regionale soddisfatto il delegato al traffico l'onorevole Antonio De Caro che nelle commissioni parlamentari sta già lavorando alla modifica del codice della strada fermo al 92 Per fortuna gli incidenti sono diminuiti nel corso degli anni in particolare il punto di maggior caduta dell'incidente è stato nel 2010 quando il Comune di Bari è riuscito a rispettare la direttiva europea credo che dobbiamo proseguire in questo senso Sarà attivo dal 20 maggio prossimo il numero di emergenza gratuito 080 9265 157 finalizzato alla prevenzione dei problemi di salute mentale e di rischio suicidario Stamattina la presentazione del progetto MOMO alla provincia di Bari un progetto promosso da Villa Serena dall'associazione Dergarten ed ente provinciale con l'obiettivo di offrire all'utente un supporto e una guida psicologica nelle diverse forme di disagio sociale Sarà inaugurata domani nella Pinacoteca provinciale di Bari la mostra Paris Bordeaux in Puglia oggi l'anteprima alla stampa dell'opera restaurata Madonna con bambino tra Sant'Enrico d'Upsala e Sant'Antonio da Padova Svelata in anteprima alla stampa l'opera restaurata di uno degli autori più apprezzati al mondo Paris Bordeaux, artista veneziano del Cinquecento approda a Bari con il suo capolavoro Madonna con bambino tra Sant'Enrico di Upsala e Sant'Antonio da Padova in mostra da domani nella Pinacoteca provinciale di Bari un dipinto di straordinaria bellezza che rinnova il legame dell'artista con la città di Bari come spiega la direttrice della Pinacoteca Clara Gelao quel dipinto come si vede raffigura una sacra conversazione cioè non più la presentazione iconica della Madonna con bambino al centro con due santi laterali in posizione frontale bensì una sacra conversazione che implica alcuni aggiustamenti diciamo così cioè c'è un rapporto sentimentale che lega i personaggi ognuno dei quali guarda l'altro c'è una circolarità di sentimenti e lo potrete notare proprio guardando il dipinto e raffigura la Madonna con bambino tra appunto Sant'Enrico che era il patronimico di Enrico Tanzi il console generale dei Lombardi e dei Milanesi a Bari dalla cui eredità scaturisce poi tutta la vicenda che porta alla realizzazione del dipinto e Sant'Antonio in mostra nella Pinacoteca anche una coppia di quadri di soggetto profano dello stesso Bordon uno dei quali firmato in origine e conservati in un'antica collezione aristocratica pugliese ed esposti per la prima volta al pubblico Siamo abituati a vederlo alle prese con le vicende della famiglia reale inglese in una veste tutta speciale oggi Antonio Caprarica inviato RAI a Londra ha incontrato le studentesse degli istituti Flacco, Vivante e Santarella l'occasione è stata fornita dalla decima edizione di Building a Puglia costruendo l'identità della Puglia la Puglia che scrive, che edita, che parla di sé rassegna giunta al quarto appuntamento l'iniziativa è promossa dal Servizio Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale della Puglia Caprarica ha presentato il suo ultimo libro Ci vorrebbe un attaccere il prossimo lavoro sarà in stampa a settembre Passiamo alle previsioni del tempo per le prossime ore cielo poco nuvoloso temperature comprese tra 26 e 13 gradi venti deboli, mare poco mosso in chiusura vi ricordo come di consueto i nostri indirizzi internet www.telebari.it e radiobari.net Il telegiornale finisce qui grazie per averci seguito più tardi con l'informazione di Telebari Grazie a tutti